Mio signore, il piano è riuscito alla percezione, è riuscito alla perfezione per me e tu mio, ed ecco questo il risultato. Il crento stivante, sapevo che non avresti tradito le mie aspettative. Mio signore, ogni tuo desiderio è un ordine, a costo della vita. Mi dai un po' il tasto, ma come? Ne sono sicuro, Astor, e per questo io ho qualcosa per te. Che? Come? Che cosa?